La cosa che c'è data di fare è avere il tempo da poter organizzare, se da organizzare e da dividere Infatti cazzo, rullante, la mia voce di impatti, batti, me degli altri, per fare salti, per far parlare il pubblico sugli spazi Cazzo se mi cazzo, si che mi cazzo!